E dunque in vista del 25 settembre, quella in corso tra Venafro e Pozzigli è un'intensa due giorni di appuntamenti elettorali. Ieri, come abbiamo appena visto, la presentazione dei candidati di partito nella sede di Fratelli d'Italia e del PD presso la Palazzina Liberty. L'evento clou, quello più atteso e partecipato della campagna elettorale in Molise, si terrà oggi pomeriggio. Ad organizzarlo l'europarlamentare molisano Aldo Patriciello. A partire dalle 18 tutto il centrodestra molisano si riunirà presso l'Hotel Dora. Nello spazio retrostante alla struttura, all'aperto, attesi un migliaio di partecipanti, ma probabilmente saranno anche di più. Questo perché la presentazione dei candidati di coalizione, quelli sull'uninominale, Lorenzo Cesa per la Camera, Claudio Lotito per il Senato, richiamerà tutte le forze del centrodestra regionale. L'intento? Una prova di forza all'insegna della coesione. Un modo, cioè, per mostrare i muscoli e dare prova di compattezza in vista della dir poco arduo banco di prova del governo del Paese, a cui, stando ai sondaggi che fin dalla prima ora gli accreditavano la vittoria, il centrodestra dovrebbe essere chiamato. E qui in Molise la coalizione di Meloni, Berlusconi e Salvini sembra avere tutta l'intenzione di confermare il trend nazionale, in previsione anche del prossimo cruciale appuntamento elettorale con le regionali.